Sono ancora una volta le pietre d'inciampo di Gunther Denning a caratterizzare a Torino le celebrazioni della giornata della memoria, iniziativa resa possibile grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Otto, gli Stolperstein posati quest'anno sui marciapiedi e nelle vie della città, ognuno a ricordare una vittima della deportazione nazifascista. Per la prima volta dopo sette anni alla posa delle sue pietre non era presente l'artista impossibilitato a lasciare la Germania a causa della pandemia. La celebrazione ufficiale in corso regina 128 all'ex caserma dei Vigili del Fuoco, dove sono stati ricordati Francesco Aime e Giovanni Bricco, due giovani appartenenti al corpo deportati a Mauthausen per aver combattuto con la Resistenza. Due deportati che hanno un duplice motivo per essere riconosciuti, perché eroi come Vigili del Fuoco, eroi che hanno lottato per la liberazione del nostro paese, deportati in campi di concentramento e ahimè come dobbiamo ricordarli come tali. Abbiamo necessità di far conoscere con le pietre in ciampo, anche in questo momento di emergenza sanitaria, le pietre in ciampo alla popolazione turinese e in questo territorio, dietro Portapalazzo, a Balung, abbiamo necessità di far conoscere anche la nostra storia, le nostre tragedie ai nuovi piemontesi. È tutto estremamente importante e tutto estremamente coinvolgente, momento questo che non può e non potrà mai essere dimenticato, il sacrificio di chi ha dato la sua vita per mantenere la nostra la libertà, il sacrificio di chi si è battuto contro il nazifascismo, di chi ha saputo mantenere l'umanità in questo mondo che in quel momento l'aveva totalmente persa, c'è ancora da chiedersi come e non può che commuoverci e che stringerci sempre più forte alle vittime di allora. Gli appuntamenti con le iniziative per la giornata della memoria hanno preso il via a Palazzo Civico dove in Sala Rossa, in diretta streaming, si è tenuta l'orazione ufficiale di Fabio Levi, alla presenza tra gli altri dell'assessore alla cultura della città di Torino Francesca Leon e del presidente del consiglio regionale Stefano Allasia. Grande spazio è stato poi riservato alle scuole con la Cineteca della Resistenza, cura dell'archivio nazionale cinematografico della Resistenza e con il laboratorio sulle pietre d'inciampo, curato dal Museo Diffuso della Resistenza. Sempre i ragazzi sono stati i protagonisti di Adotta un negazionista, diretta radiofonica su Tradiradio, organizzata dalla Rete Italiana di Cultura Popolare. Tra gli altri appuntamenti anche il podcast Il Polo è sempre online per il giorno della memoria, che a più voce ha ripercorso le vicende della persecuzione degli ebrei italiani dalle reggi razziali al 1945, organizzato dal Polo del Novecento. In occasione della giornata della memoria, poi, la Biblioteca della Regione Piemonte espone nelle vetrine dell'Urpio di via Arsenale 14G alcuni volumi selezionati tra i titoli sul tema della Shoah. L'elenco delle pubblicazioni e le modalità per il prestito sono consultabili sul sito del Consiglio regionale. Le celebrazioni si concluderanno il 7 febbraio con la lettura scenica Mikolaiska 26 sulla figura di Zuzanna Ginzanka, poetessa ebrea polacca originaria di Kiev.